Gli artificiori dell'esercito italiano hanno bonificato una bomba d'aereo da 250 libri risalente alla Seconda Guerra Mondiale a Regalbuto sul richiesto dalla Prefettura di Enna. L'operazione ha richiesto l'evacuazione dei civili in un raggio di 400 metri. Il quarto reggimento Eugenio Guastatori di Palermo ha neutralizzato l'ordigno sul posto e lo ha trasportato in una cava per la bonifica finale utilizzando sistemi robotizzati per garantire la sicurezza. Nel 2024 il reggimento ha già bonificato 308 ordigni bellici in tutta la Sicilia.